Coronavirus dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe in Basilicata, più 34% di nuovi casi, non preoccupano le terapie intensive, ricoveri in area medica però tra i più alti in Italia. Sta male la protesta dei dializzati dell'ANED sotto la regione seguita dalle telecamere di Prima Notizia. Ascolteremo le novità dalle parole del segretario regionale Donato Andrisani. La cronaca giudiziaria Operazione Black & White, la Cassazione dissequestra la barberia di Giordano a Potenza. All'interno del salone erano stati ritrovati droga e 16.000 euro in contanti. Gli effetti della guerra russo-ucraina sull'agricoltura lucana, messa in ginocchio dal caro energia e dall'aumento delle materie prime. Domenica la CIA sarà in piazza Scanzano per chiedere misure straordinarie, i dettagli della manifestazione illustrati in una conferenza stampa stamane a Potenza. Calcio, un colpo di testa di Carnielutti nel finale decide il derby contro il Picerno e consegna al Potenza tre punti vitali nella corsa a salvezza per i Melandrini seconda sconfitta di fila. Ancora un buon giovedì a tutti voi e ben ritrovati in studio per l'appuntamento con l'informazione dalla Basilicata. In apertura l'emergenza coronavirus, ancora due decessi nel bollettino odierno e la curva dei contagi è in continuo aumento. Sono un migliaio le ultime positività riscontrate e in una settimana i casi sono cresciuti del 33,9%. In leggero calo invece i ricoveri, ma sentiamo Michelangelo Russo. Ancora decessi e oltre mille contagi, due le persone che non ce l'hanno fatta nelle ultime ore, oltre alla 65enne di Novasiri, di cui vi avevamo già dato notizia ieri, anche una persona residente a Calvera. Negli ospedali due pazienti in meno, 92, 57 a San Carlo, 35 al Madonna delle Grazie, sempre tre gli assistiti nelle terapie intensive, 1.022 nuovi casi scoperti a fronte di quasi 4.000 tamponi processati, 421 le ultime guarigioni, 553 le vaccinazioni di giornata. Casi in aumento quindi, a certificarlo, oppure il nuovo rapporto Gimbe che ha rilevato in Basilicata un aumento di nuovi casi nell'ultima settimana del 33,9%, in linea con il contesto nazionale dove la curva è salita del 36%, 3.362 i casi lucani attualmente positivi ogni 100.000 abitanti, mentre sul fronte ospedalizzazioni posti occupati al 22,7% nei reparti ordinari, quindi oltre la soglia del 15%, al 3,8% invece le terapie intensive e potenza e matera figurano tra le 66 province con un'incidenza superiore ai 500 casi ogni 100.000 abitanti. Terze dosi inoculate invece all'83,9% della platea, mentre volano ancora le immunizzazioni nella fascia 5-11 anni con il 40,8% dei bambini a ciclo completo e il 6,1% fermo ad una dose. Meglio fanno soltanto Puglia e Molise. A livello generale invece il 2,3% della popolazione lucana deve ancora eseguire la seconda dose. Restiamo in ambito sanitario perché è ripresa questa mattina la protesta dei trapiantati e dializzati ANED che abbiamo seguito con le telecamere di Prima Notizia davanti al Palazzo della Regione. Manifestazione che ha visto in testa il segretario regionale dell'Associazione Donato Andrisani che continua a non sottoporsi ai consueti controlli ospedalieri per la valutazione della funzionalità dell'organo trapiantato e del dosaggio dei farmaci immunosoppressori oltre alla visita nefrologica già programmati da tempo presso il centro regionale trapianti dell'ospedale di Matera. Il tutto fino a quando il Presidente Bardi non convocherà un tavolo di confronto. C'è però qualche spiraglio dopo questa mattina ma sentiamo le principali motivazioni della protesta al nostro microfono. La questione riguarda la carenza drammatica di medici ed infermiere nei centri dialisi della Basilicata e nelle due nefrologie di Matera e Potenza. Intorno alle 10 abbiamo avuto un incontro preliminare con il nuovo Assessore Fanelli e con il Direttore Generale del Dipartimento Sanità e il Direttore Sanitario dell'ASPA. Ci è stata data una disponibilità a collaborare. Abbiamo chiesto che nel più breve tempo possibile ci fosse un incontro con tutti i direttori generali delle ASL e con il gruppo di lavoro in nefrologia che è stato istituito proprio dalla regione Basilicata per fare il punto sulla situazione e capire quali potrebbero essere le soluzioni più opportune. Ed ora il lavoro comunicati e continuano i nuovi fermi produttivi di Stellantis sempre per la mancanza di componenti derivanti dalla crisi dei semiconduttori. L'attività lavorativa è stato comunicato in queste ore e sarà sospesa dalle ore 6 di sabato 19 marzo fino alle 6 di lunedì 28 marzo, giorno in cui tra l'altro è atteso in Italia l'arrivo dell'amministratore e delegato del gruppo Carlos Tavares. Notizia che porta i sindacati a chiedere nuovamente un confronto in presenza visto l'attuale momento critico per il settore automotive. Ora la cronaca giudiziaria operazione Black & White. La Cassazione dissequestra la barberia di Giordano a Potenza. All'interno del salone erano stati ritrovati droga e 16 mila euro in contanti, i particolari da Donato Carbonello. La Corte di Cassazione ha dissequestrato la barberia di Potenza alla quale poco più di un anno fa erano stati posti i sigilli nell'ambito dell'operazione antidroga denominata Black & White che aveva coinvolto anche un bar di Via Mazzini. Per gli inquirenti il salone era diventato un punto di spaccio e il suo gestore Enzo Giordano, 32 anni, era stato arrestato. Il giovane, a fine novembre dello scorso anno, era poi stato raggiunto da una seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito dell'operazione Lucania Felix, con la quale la DDA di Potenza è convinta di aver smantellato il clan Martorano Stefanutti. Ma nei giorni scorsi il GIP del Tribunale di Potenza, Lucio Setola, in accoglimento dell'istanza presentata dall'avvocato Fabio Di Ciommo, aveva disposto la remissione in libertà di Giordano che resta sottoposto al divieto di dimora in Basilicata. Ora la Suprema Corte ha accolto anche il ricorso proposto nel marzo 2021 dall'avvocato Di Ciommo, disponendo un nuovo giudizio davanti al Tribunale del Riesame relativamente alla vicenda del sequestro della barberia, all'interno della quale erano stati ritrovati circa 18.000 euro in contanti e oltre un chilogrammo di stupefacenti tra cocaina ed hashish. Tribunale del Riesame che nelle scorse ore ha disposto la restituzione al giovane di due Rolex del valore complessivo di 18.000 euro che erano stati sequestrati nell'ambito dell'arresto scattato lo scorso 29 novembre. I carabinieri di Melfi hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne residente a Rionero per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Martedì sera i militari in un servizio di controllo hanno notato il giovane alla guida della sua auto cambiare andatura appena resosi conto della loro presenza. All'alta subito manifestato agitazione ha provato a disfarsi lanciandolo a distanza di un involucro che raccolto dai carabinieri è risultato contenere hashish. Dalla perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati mezzo grammo di cocaina e 30 grammi di hashish e poco più di 100 euro, verosimilmente frutto dello spazio. Ancora la cronaca torna a colpire in Basilicata la banda dell'auto nera. Stavolta le segnalazioni arrivano da Cersosimo dove un paio di notti fa sono state prese di mira due abitazioni con i proprietari all'interno. I furti nella valsarmento sono stati denunciati ai carabinieri di Noepoli. Le case sono state messe a soccuadro e nel bottino sono finiti oggetti di valore. Altri episodi simili sono stati segnalati nei giorni scorsi in altri centri dell'Alto Ionio Cosentino. La sindaca domenica paglia confida però nell'operato delle forze dell'ordine. E con questo andiamo in pubblicità per alcuni istanti a fra poco. Grazie. Grazie. 2-0-8-8-0-6 Capital Fair Specialisti nella lavorazione dell'acciaio tondo per cemento armato e gabbie per pali di fondazione. Materiali di qualità e attrezzature all'avanguardia per soddisfare ogni tipo di esigenza. Lavori di precisione per garantire alti standard qualitativi. Lo staff sempre aggiornato al vostro servizio. Capital Fair. Tradizione e innovazione da oltre 30 anni. Altamura, via Gravina 139. Capital Fair.it Seconda parte del Tg. La commissione regionale pari opportunità con lettera della presidente Margherita Perretti, indirizzata al presidente Bardi, ha sollecitato il completamento del centro di accoglienza per stagionali nel plesso Città della Pace, nel comune di Scanzano Ionico, già finanziato con i fondi UE a valere sul PON Legalità 2014-2020, assesette, accoglienza e integrazione migranti. A rischio disimpegno 2 milioni di euro. Adesso che la nuova giunta sia appena insediata, scrive Perretti, occorre procedere con la massima sollecitudine all'approvazione della delibera, che consentirebbe di perfezionare l'iter, riconoscendole massima priorità. A riguardo, presentata anche un'interrogazione parlamentare dall'onorevole Vito De Filippo, vediamo tante cose negative in questo tempo della vita regionale, registriamo dibattiti a volte incomprensibili, ma, osserva il deputato Lucano, l'abbandono di questo progetto, voluto da una donna straordinaria come Betty Williams, è veramente un'offesa a una delle pagine più belle della storia regionale recente. E ora gli effetti della guerra russo-ucraina sull'agricoltura lucana messa in ginocchio dal caro energia e dall'aumento delle materie prime. Domenica prossima la CIA scenderà in piazza a Scanzano Ionico per chiedere misure straordinarie. I dettagli della manifestazione nazionale sono stati illustrati questa mattina in conferenza stampa a Potenza. Ci racconta tutto Lucia Pietrafesa. Misure di breve e medio periodo per permettere alle aziende agricole di fronteggiare gli effetti della guerra in Ucraina acuiti dal caro energia e dall'aumento del costo delle materie prime, partendo dall'eliminazione dell'IVA sulle accise per il gasolio e dagli incentivi alla semina di mais. Queste le richieste alle istituzioni nazionali ed europee che gli agricoltori urleranno domenica in piazza a Scanzano, attesi nel centro ionico delegazioni da tutto il sud. Una maxi mobilitazione i cui dettagli sono stati illustrati in una conferenza stampa nella sede della CIA agricoltori a Potenza. Raduneremo migliaia di agricoltori nel Metapontino, luogo simbolo delle produzioni di eccellenza. Abbiamo la necessità di rivendicare in questa fase scelte appropriate. Abbiamo fatto un documento che porteremo in quella sede. Sarà sottoscritto da tutte le istituzioni presenti, simbolicamente radunate a Piazza del Commercio, una piazza bellissima che sarà un'ondata di verde. Soprattutto abbiamo chiesto immediatamente tre cose. La prima, risposte di emergenza a una situazione emergenziale. Aumento dei costi, questione delle quotazioni al ribasso, vicenda fa una selvatica e soprattutto speculazione. A queste problematiche c'è bisogno di rispondere in forma straordinaria. Una fra tutte è prorogare lo stato di emergenza e di grandissima straordinarietà che stiamo vivendo come settori economici. E chiaramente anche cercando di risolvere le questioni dei trasporti e dei conferimenti. Un'altra proposta è quella di medio periodo. Bisogna considerare l'agricoltura e le imprese agricole fattore determinante per l'economia di questa nazione. E fra queste ci sono alcune idee che riguardano gli investimenti innovativi, la questione agroenergetica, il tema della sostenibilità e della certificazione delle produzioni. Un'autosufficienza o la capacità di essere quasi autosufficiente a livello alimentare ci mette nelle condizioni di avere un'economia più forte, una società più equilibrata. Infine, la centralità di politiche che guardano non solo alla nazione e allo Stato italiano, ma una logica europea perché quello che sta accadendo con la guerra in Ucraina e con le turbative di mercato la possiamo combattere se abbiamo un agroalimentare di qualità forte e autosufficiente nelle nostre terre e nelle nostre campagne. La situazione è veramente fuori controllo. Abbiamo una situazione molto delicata e molto difficile all'interno delle nostre aziende agricole. Oggi le aziende agricole stanno producendo in perdita, si stanno indebitando sempre di più. Il gasolo agricolo ormai è arrivato a 1,60 euro. I concimi si sono triplicati. Tutte le materie prime si sono minimo raddoppiate. Non ce la fanno più le aziende agricole, ma non solo. Noi abbiamo da un lato le aziende agricole che hanno dei problemi seri e importanti per produrre i prodotti alimentari, che sono le stesse aziende agricole che durante il Covid non hanno potuto chiudere e non possono chiudere. Questa è un'altra situazione. Noi non possiamo chiudere, noi non produciamo bolloni, noi produciamo alimenti che servono alle famiglie italiane. Dall'altro lato ci sono le famiglie italiane che non ce la fanno più a comprare i prodotti. Questa è una situazione insostenibile, dobbiamo fare subito per risolvere questo problema. Restiamo in qualche modo in tema. Dopo la corsa ai rifornimenti delle scorse settimane per via degli aumenti alla pompa, si aggirerebbe attorno agli 11 euro al mese, secondo le prime stime, il risparmio medio per un automobilista italiano, se il governo ridurrà effettivamente il peso delle accise di 15 centesimi di euro al litro. L'intervento porterebbe i prezzi alla pompa a circa 2 euro al litro nella modalità self. La spesa media mensile per fare rifornimento oggi è arrivata rispettivamente a 167 euro per la benzina e 160 euro per il diesel. Con l'intervento ipotizzato dal governo, la spesa mensile anche per i lucani scenderebbe a 156 euro al mese per fare il pieno a un'auto a benzina e a 149 euro per una a diesel. Il taglio delle accise riuscirebbe però solo parzialmente a contrastare gli aumenti record delle ultime settimane. Con i prezzi calmierati, in un mese un'automobilista spenderebbe in benzina circa 36 euro in più rispetto allo scorso anno e 44 euro in più se si tratta di diesel. Ultima pagina, cultura dal basso e riscoperta dei propri siti per ripartire in questo difficile momento. L'associazione Guilab Potenza ha presentato ieri l'iniziativa La cultura ci salverà. Stimoli e formule innovative per allargare la fruizione. Primi eventi già dalla prossima settimana. Ce ne parla Mariolina Notargiacomo. La cultura come fattore di rinascita e ripartenza ma soprattutto come strumento di elevazione sociale e sviluppo. Questo è il tema al centro dell'iniziativa La cultura ci salverà. Tenutasi al polo bibliotecario provinciale su iniziativa dell'associazione We Love Potenza e del suo principale animatore Enzo Fierro. Ripartiamo con questo progetto La cultura ci salverà in un momento particolare, un momento sicuramente difficile dove però bisogna reagire, bisogna conservare gli stimoli e soprattutto bisogna raccogliere le sollicitazioni di un popolo, di una comunità che non vuole stare fermo, che vuole convivere con le difficoltà. Tornano a vivere i luoghi della cultura fatti di incontri, di fruizione dei beni comuni dove far circolare l'informazione, stimoli condivisi negli interventi che si sono susseguiti nel corso dell'incontro alla presenza del direttore della Biblioteca Catalani e della referente della provincia per i beni culturali De Marca. Ma quali sono le iniziative in campo? Saremo proprio da questo centro, da questo rione, da questo quartiere importantissimo che è appunto Santa Maria attraverso una iniziativa di visite guidate alle strutture e ai siti culturali di maggiore pregio e di maggiore interesse con l'obiettivo di lanciare un segnale a tutta la città che è quello di ritornare a fare cultura dal basso soprattutto in uno spirito di grande collaborazione con le istituzioni del territorio. Al vaglio formule innovative per prolungare e garantire l'accesso ai siti culturali anche e soprattutto nelle fasce orarie e serali per rendere più facilmente visitabile a cittadini e ai turisti il patrimonio della città con un occhio ai fondi europei. Il PNRR, il Piano Nazionale di Riprese e di Resilienza proprio sull'asse turismo e cultura dispone dei finanziamenti importanti noi riteniamo che si possa intercettare con un grande progetto di fruizione culturale buona parte di questi importanti, di questi finanziamenti. Prima visita guidata proprio al polo bibliotecario mercoledì 23 marzo alle 17. Adesioni via mail a welovepotenzachiocciolagmail.com Ha preso il via questa settimana il progetto rifiuti abbandonati finanziato dalla regione Basilicata alla provincia di Potenza è consistente in interventi volti a prevenire e contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti nelle aree pubbliche o di interesse pubblico. Il progetto interesserà la ex statale Centro 4 Sapri Ionio, la provinciale 65 di Chiaromonte e la provinciale 4 del Pollino. Sono tutti interventi che riguarderanno il territorio di Chiaromonte, frutto di precedenti segnalazioni. A breve, fa sapere la sindaca Viola cominceranno anche i lavori di rimozione in altre aree comunali grazie al progetto candidato e poi finanziato direttamente al comune di Chiaromonte per un importo di 25 mila euro. Passiamo allo sport con il calcio di Serie C una capocciata di Carni e Lutti giunto al terzo gol di fila decide il derby contro il Picerno quasi sui titoli di coda e consegna al Potenza tre punti di platino perché fanno sperare ancora i rosso-blu nella salvezza diretta. Per i Melandrini arriva la seconda sconfitta di fila la terza nelle ultime quattro gare ma ci racconta tutto Donato Valvano. La capocciata di Carni e Lutti ad una manciata di minuti dalla fine permette al Potenza di vincere il secondo derby stagionale contro il Picerno e contemporaneamente di regalare tre punti alla formazione di Arleo che consentono di prendere un'altra boccata ad aria fresca nella lotta verso la salvezza infliggendo ai Melandrini la seconda sconfitta di fila la terza nelle ultime quattro gare. Colucci rispolvera Albertazzi tra i pali schierando tutti i titolarissimi con guerra laterale di difesa a sinistra Dettori in mezzo con D'Angelo Esposita a sinistra Reginaldo e Gerardi in attacco 3-4-2-1 per il Potenza con Sepe e Braccetto di difesa Coccia e Nigro esterni alti Burzio e Cuppone a supporto di Salvemini. Prima del fischio d'inizio un minuto di raccoglimento in memoria del vice sindaco Giussi Marsico recentemente scomparsa La fase di studio si potrà per un buon quarto d'ora dove le due squadre si controllano senza affondare i colpi più di tanto Poi una fiammata del Potenza al diciottesimo quando Burzio innesta le marce alte sulla destra e pennella un cross al bacio per l'inserimento di Cuppone che fa gridare a gol i quasi 500 tifosi potentini giunti dal capoluogo ma la sensazione svanisce dopo pochissimi istanti Prova a pungere anche il piciano al trentottesimo con De Cristoforo che cerca capitano esposito sul palo lungo ma sul numero 11 arriva la pronta chiusura dell'altro capitano Coccia che mette in calcio d'angolo I Melandrini provano a dare un altro strattone alla gara in chiusura di primo tempo quando dopo una combinazione Dettori-Setola la palla arriva sul destro Educato di D'Angelo che disegna un arcobaleno che però non fa in tempo ad abbassarsi palla fuori bersaglio Parte meglio il Potenza nella ripresa Bucolo scodella una palla nel mezzo verso Carnielutti che innesca un flipper la difesa Melandrinal sputa via il pallone sui piedi di Coccia che ci prova ma il suo destro sorvola la traversa della porta di Albertazzi Al 49esimo la scena si ripete nell'area del Potenza dopo un calcio piazzato di Dettori e la staffilata finale di Esposito viene murata dalla terza linea ospite Minuto 60 cross tagliato di Carnielutti per la testa di Romero che riesce a dare forza ma non precisione a pallone che si perde ancora una volta sul fondo Si arriva al 75esimo quando De Franco cerca Gerardi nel cuore dell'area potentina l'attaccante Melandrino viene contratto in maniera efficace da Carnielutti che evita la capitolazione Dopo aver salvato il Potenza il numero 5 rosso-blu si prende tutta la scena anche nell'altra area quando all'84esimo la gira di testa in fondo al sacco su un cross morbido di Zenuni e in pallina un immobile Albertazzi facendo esplodere il settore ospiti del Curcio per Cagnelutti è il terzo gol consecutivo dopo quelli segnati a Latina e al Tarato non c'è più tempo per la reazione del Picerno che incappa in una sconfitta che brucia per il Potenza tre punti di Platino che consentono alla formazione di mister Arleo di agganciare la Paganese e di sperare ancora nella salvezza Calcio e Solidarietà è partito ieri dallo stadio Viviani e lo vedete da queste immagini postate proprio dal Potenza Calcio il secondo carico di beni donati dai Potentini arriverà direttamente in Ucraina nel comune di Mikolaiv nei pressi di Leopoli il lungo viaggio lo sta facendo Roman che consegnerà il carico pieno di aiuti nelle mani del figlio Nazar cresciuto a Potenza ed ora attivista in Ucraina per il suo popolo tanti gli enti le imprese private e le associazioni che insieme al Potenza Calcio hanno raccolto oltre 12 tonnellate di generi di prima necessità con oltre 8 mila euro sono stati acquistati più di 5 tonnellate di aiuti e con questo si chiude qui questa edizione della nuova TG grazie per averci seguito l'appuntamento con le informazioni torna con il TG Flash delle 17 buon pomeriggio a l'appuntamento a Grazie a tutti.